Il numero 1, Gianluigi, numero 6, Sabini, numero 8, Claudio, numero 10, Bonabinei, numero 15, Andrea, numero 16, Juan, numero 17, Mario, numero 19, Leonardo, numero 21, Paolo, numero 24, Daniele, numero 33, Patrice, a disposizione con il 34, Rubinio, numero 21, 9, Nola, 11, NX, 12, Alex, Nolio, 18, Nolio, numero 20, Padua, Iber, il numero 27, Gianluigi, numero 27, Scoraro, Bianconeri, sulle scelpe, fuori la voce, e ancora una volta, fino alla fine, forza, e ancora una volta, tambi, anche il prezzo di fuori la voce, si riferono a », … e poi scriviamo ai ありazionari proprio, da, per progettare erano la voce, sono le parti C'è la città dove puoi, presso le tue conquiste. Con le tue famiglie sarà, sarà la storia di tutti io. E solo tu, come vuoi, fare un'idea storia anche se... Tutte, vuoi un grande amore, diamo un bacio a teo, sono un bacio a teo. E per me, ho raggiunto il cuore, siamo la cultura di festa, come un abbraccio noi, e ancora non ci basta. Ogni pagina rossa sarà, sarà la storia di tutti io, solo di corretto, ma è di te quello che sei. Due, sono un grande amore, diamo un bacio a teo, non ci basta davvero. Solo tu, come vuoi, fare un'idea storia di festa, come un abbraccio noi, diamo un bacio a teo, non ci basta davvero. Oppure so, immagino una felipe però poi che ipp journalismi sia la storia di dirgo, D trickle suure, non ci basta davvero tua, ma Grazie a tutti.